Cazzo stai facendo? Gli fai male? Senti, ho fatto sei anni di medicina. Non me ne frega un cazzo di quello che hai visto in... I riottosi stanno prendendo il controllo di Madison Square Garden. La JTF e il Cera usavano il posto come ospedale da campo. Ma poi è arrivata gente armata. Ora hanno in ostaggio il personale medico. Loro ci servono. Dentro ci sono un sacco di nemici, agente. Hanno in ostaggio la dottorissa Kendall e il suo staff. Quel personale ci serve alla base per mettere in funzione il dipartimento medico. Stiamo qui a coprirti le spalle. Poi scorteremo il personale medico quando l'avrai recuperato. Dove pensi di andare? Senti, vabbia! Cazzo stai! Meglio che controlli. Da quando? Sei il mio... Non sbagliare la nuova! Hanno il cazzo non l'est... Se mi inserisci nel sistema di sicurezza, forse posso trovare la posizione della Kendall. Sono dentro. Vediamo cosa trovo. Riesci a vedere le telecamere a circuito chiuso? Sembra che la Kendall e il suo staff stiano curando forzatamente i loro feriti. È per questo che sono ancora vivi. Sembra che abbiano gente al piano di sopra, in un ristorante. Ce ne sono un sacco, ma stando al riparo si dovrebbe riuscire a eliminarli senza diventare un bersaglio. C'è qualcosa dippo. Sì! C'è qualcosa di nuovo. C'è qualcosa di nuovo. C'è qualcosa di nuovo. C'è qualcosa di nuovo. Vediamo, ci rinpianiamo. Sì, vabbiamo lazione di andare. Una gentile lotta! Rilevati altri nemici. 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 Attenzione, rilevati altri nemici. Attenzione, rilevati altri nemici. Attenzione, rilevati altri nemici. Nella cucina di Cobis. Pare che abbiano letteralmente devastato il posto. A mio padre si sarebbe spezzato il cuore a vederlo così. Ci guardavamo le partite insieme. I rilevamenti indicano... In fondo è meglio che i miei genitori non abbiano fatto in tempo a vedere tutto questo. Poi penso alla gente che fa di tutto per tirare avanti. È per loro che lo stiamo facendo. Forza, agente. Attenzione, stai abbandonando l'aria sicura. Attenzione, i rilevamenti indicano che l'aria è contaminata. Per arrivare da Cobis dovrei passare da alcune aree contaminate. Prima che venissero uccisi c'erano molti malati in cura lì. Fai attenzione. Uscita dall'area contaminata. Uscita dall'area contaminata. Adesso ci diventiamo. Cosa è il tuo problema? Cosa è il tuo problema? Basta, nessuno per il bambino. No, 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 no. Ah, forza, c'era. Maledizione. Maledizione. Sous-titrage ST' 501 tenete giù la testa e state in silenzio attenzione rilevati nemici la porta è sotto attacco dal tetto non può muoversi finchè non vai lassù a uccidere l'artigliere siamo ingiodati non c'è modo di uscirne vivi se qualcuno non balla su a sistemare le mitragliatrici tocca a te agente a te agente attenzione rilevati nemici in arrivo attenzione rilevati nemici in attenzione rilevati nemici in attenzione rilevati nemici attenzione rilevati nemici in attenzione rilevati nemici attenzione rilevati nemici in attenzione rilevati nemici in attenzione rilevati nemici perché Attenzione, altri nemici in arrivo. I Medici sono in salvo. Abbiamo la Kendall e tutto il suo staff. Nessun ferito. È un buon inizio, agente. Sarebbe stato bello poter lavorare prima con te, ma saremo comunque un'ottima squadra. Al tuo ritorno alla base, parleremo con la dottoressa Kendall per capire cosa può fare per noi. Sarebbe stato bello poter lavorare. 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 Ingresso in un'area sicura. Ma guarda chi c'è. Mi hai salvata dal garden, grazie. Ero stata in ambienti di lavoro ostili prima. Ma cielo. Certo. Nemmeno questo posto è il massimo della vita. Attrezzatura vecchia, staffa assente, paziente in fila fuori dalla porta. Non ci siamo proprio. Facciamo del nostro meglio, dottoressa Kendall. Ogni consiglio da parte sua è ben accetto. Lo so, lo so. Ha cavaldonato, eccetera, eccetera. Quello che conta è sconfiggere l'epidemia, ma per farlo devo saperne di più. Ecco il punto di partenza. Secondo il Cera, un certo dottor Gordon Amherst ha a che fare con l'epidemia. Cavolo. Quello stronzo. Ho visto una sua presentazione, la Columbia. Si è sfiorata la rivolta. Se è coinvolto, devo parlargli. Vedete cosa riuscite a trovare? Appunti, computer, i suoi amici intimi. È tutto utile. E dobbiamo parlare di campioni vivi e di anticorpi. Diamoci da fare. E lei, invece? Io aiuterò. Salverò vite. Ora scusate, devo iniziare. Davvero perfetto, non so come ringraziarti. Ti regalerò una bottiglia della mia cantina personale. Una farmacia, ottimo. Ora possiamo tenere al sicuro e sotto controllo le medicine. Ehi, date un'occhiata! Meglio tu che io! Meglio tu che io! Ehi, date un'occhiata! E insieme possiamo farcela. Ma sono felice che lì fuori ci sia tu e non io. Ricordati che sei speciale. Perché molte persone non sopravvivono quando affrontano delle simili quantità di nemici armati fino ai denti. ti invio le coordinate. Attenzione, stai per uscire dall'area sicura. Quello che hai fatto per me è... Grazie. Un altro giorno all'inferno. Ehi! 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 A tutte le umidat' vicino a Ben Plaza. Segnalati ostaggi al RUN sulla ventiseisima ovet. Procedere con cautela. Ma tomfoso! Ooph! Dobbiamo aggirarvi! Basta nascondersi! Sì Grazie a tutti. Hai risolto la situazione, agente. Grazie. Agente! Sì, ci serve il tuo aiuto del recupero di risorse per sterilizzare. Ne ho disperatamente bisogno in queste luride condizioni. Ma il fatto è che sono nelle foglie. Ah, prova le... e poi sterilizza tutto, per favore. Voi un'altra giornata di merda. La notte si approfondisce. La mia piccola... La notte si approfondisce. 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 No. Oh, in ultime manchie! Mi stanno ammazzando! Questo non è posto per te! Ok, sì! Oh, grazie per aver trovato le risorse per sterilizzare! Mi servono, cioè ci servono, urgentemente. Grazie mille. 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 Attenzione, scansione virale avviata. 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 Ma sono felice che lì fuori ci sia tu e non io. Ricordati che sei speciale perché molte persone non sopravvivono quando affrontano delle simili quantità di nemici armati fino ai denti. Ti invio le coordinate. Attenzione, stai entrando in un'aria contaminata. Attenzione, scansione virale avviata. Attenzione, scansione virale avviata. Stai uscendo dall'aria contaminata. Alla prossima Nessuno mi dirà più quello che devo fare Alla prossima 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 A Alla prossima 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 Non fatemi scappare da una scuola, se ne erano vi a te per l'arrivo! Attenzione! Nemici in arrivo! Eccoci! Attenzione! Altri nemici in arrivo! Capitano Benitez, sono Faye Lau. Siamo agenti della divisione e abbiamo eliminato la minaccia al perimetro. E inserisco nelle nostre comunicazioni, così potrai interizzare a dovere il supporto. Ottima notizia, ma qui ancora un macello. Alcuni di quei bastardi sono passati e stanno piazzando esplosivi sulle paratoie della galleria. Vogliono uscire a qualunque costo. Se quelle bombe saltano, sappiamo bene come andrà a finire. Quello! Allora! 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 Dunque, mando una delle mie ad occuparsi di quella bomba. Copritele il culo. Occhio ai Rikers. Disinnesco questa roba. Attenzione. Le mieci in arrivo verso la tua posizione. Ehi, mi prendi per il culo! Oh merda! Copritevi, cazzo! Non possiamo aspettare. Attenzione. NEMICI IN ARRIVA 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 NEMICI IN PUTTS 015 AIs 2 1 1 2 3 3 Bomba disinversata! Non li cazzo! No! Menta! Ci è mancato poco! Sono pronti a uccidere per ottenere quello che vogliono! Vieni! Ci troviamo nel centro di controllo! Grazie mille per il tuo aiuto! C'è mancato poco! Venite se su! Gli torneremo utili! È stato un onore combattere insieme! Cristo! Cosa ci rimane? È un piacere chiunque tu sia! Spero di poter contare subito e perché ci aspetta una dura battaglia! Ascoltate! Ci sono buone e cattive notizie! Abbiamo degli agenti della divisione di rinforzo! Ma quell'agente là fuori non ha intenzione di... Ecco la vostra cattiva! Non voglio venire con chi ha fatto che fai! È in grado di combattere! Lo faccio! E gli ottosi sono entrati nel centro di controllo! Ai posti di combattimento! Faccio! 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 usiamo il cervello e li batteremo non vivo io Lato sinistro E' solo uno stile Ottimo La merda Incredibile Agente e i tuoi amichetti hanno un cecchino in posizione Tieni gli occhi aperti Vieni qua Ma che cosa c'è che fare? Vieni qua Ma che cosa c'è che fare? Ma che cosa c'è che fare? Ti ho un po' di più Accordiamo, blu, d'un'escapperati Non sono Ma che cosa c'è scuica Non è qualcosa di più Non sono Ma che cosa c'è E Pokémon Ma che cosa c'è Non c'è rift extraczazione Lato Prende Prende Oh my God! Non è più! Non abbiamo pace, non è più tempo! Non è più tempo! Non è più tempo! Siete mati! Ok! E non è più tempo! Non è più tempo! Giochiamo! Non è più tempo! Siamo arrivati! Non è più tempo! Agente! Mi dicono che la minaccia è stata eliminata! Grazie! I miei uomini ti ringraziano! Ti ringrazia tutta New York, cazzo! Sto tornando alla base con una scorta! Facciamo due chiacchiere quando arrivi! Bel lavoro! Se avessero fatto assaltare le paratoie avremmo perso un utile supporto! Ora Benitez può tornare al Dipartimento della Sicurezza! Ci vediamo lì! Grazie a tutti. 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 Agente. Grazie a tutti. 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 , , a tutti. 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 , , a tutti. 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 , ,